salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale in questo video andremo a prendere il trofeo pifferaio magico nei topi di tobruck conduci topi attraverso il deserto senza farti avvistare a un certo punto della missione dovremo attraversare delle rovine e i nostri aliati ci chiederanno di fare silenzio di non farci sentire quando avremo attraversato le rovine senza farci notare il trofeo sarà nostro vi consiglio di prendere l mp40 silenziato in modo che possiate anche sparare e nessuno vi noterà il tutto diventerà così molto più semplice buona visione a tutti hanno visto il bengala quella luce all'orizzonte deve essere il campo tedesco meglio lasciare la strada e tagliare per il deserto no al riparo presto non dovete sparare no al riparo no al riparo no al riparo no al riparo in una raya bleiben cazzo un altro caldo possiamo nasconderci in quella casa dentro, presto grazie a tutti